Salutate il video per favore, poi non potrò più sentirvi Ciao YouTube, ciao, non so YouTube mamma, non so YouTube Ciao bellissimi, questo è Electric Brrrr E mi devo muovere perché ho pochissimo traffico nel telefono e lo devo finire entro oggi così mi si rinnova E lo avrò usato tutto e oggi vorrò provare, voglio provare, a giocare con tanti di voi, ok? Grazie all'online lounge e in particolare all'applicazione del Nintendo Switch Che mi permette di inviare l'invito anche in un canale Telegram, anche in un gruppo Whatsapp, in qualunque social Ed è magica questa cosa perché quando l'ho provato ieri, l'ho messo sul canale Telegram Un sacco di gente si è unita con estrema facilità proprio perché ha cliccato sul link e adesso iniziamo a invitare persone Quindi amici, qui vi faccio vedere l'applicazione, ecco qua Adesso io aggiungo amici tramite social network e lo posto sul gruppo Telegram che si chiama Electric Army Basta che cercate Electric Army, in realtà si chiama Electric Splat Army ma in realtà lo trovate cercando chiocciolina Electric Army Se volete partecipare a altre partite come queste è sufficiente che vi iscriviate a questo canale Telegram Fatto appositamente per giocare insieme con il Nintendo Switch Magari non solo a questo gioco ma anche altri Non lo so, e questo è quello che utilizzerò per giocare insieme a voi con il mio profilo principale Non quello fatto apposta in cui ho accettato 150 richieste di amicizia Perché lì diventa un po' più difficile organizzare le cose Perché siamo in tanti, quindi speriamo che si connettano in parecchi Adesso lascio anche un audio Premetto che non riuscirò a parlare molto tramite la chat vocale, signori Per il semplice fatto che sto collegato con il internet del telefono E la cosa diventa davvero difficile quindi Comunque ecco arrivato Naiko, Lorenzo e Stefano Siamo già in quattro Speriamo di riuscire ad aggiungerne altri quattro In modo da poter iniziare una bella partita Intanto vediamo se riusciamo a salutare questi dalla chat Perché adesso loro entrano in chat Ciao a tutti! Salutate il video per favore Poi non potrò più sentirvi Ciao YouTube! Ciao! Non su YouTube mamma! Non su YouTube! Visto? Si sente Adesso però vi devo salutare nel frattempo che aspettiamo qualcun altro Speriamo che qualcun altro si faccia vivo presto Aggiungiamo altre persone Ho paura di perdere un sacco di dati stando in chat Quindi purtroppo la devo silenziare I'm very sorry Ok appena è arrivato Pinnajet04 E ce ne mancano solo tre Un altro è arrivato Ide di livello 1 Che quindi ha appena comprato Splatoon Benvenuto Ide Sai che volevo fare un tutorial su come fare un bel poster Perché volevo fare un poster con tutti i nuovi amici del Nintendo Switch E mettermelo qui sul muro Bello grande Fico Così vi riconosco sempre quando entrate in partita Vi vedo viene qualcosa di carino con cui abbellire la parete di questo ufficio Fantastico direi Magari c'è qualcuno che ha ricevuto l'invito E' acceso di colpo il Nintendo Switch Dicendo Ehi c'è l'invito devo accendere tutto E lo so è stato un po' improvviso E' arrivato Fokuno anche Fokuno Abbiamo Fokuno 10 C'è anche Blade online Chi c'è? C'è anche Blade Dov'è Blade? Puoi Come? Puoi Non si capisce molto Devo uscire dalla chat Se non mi consumano troppi dati Wow Ne sono entrati due insieme Anche troppi Qualcuno dovrà fare lo spettatore Purtroppo A meno che non entri un altro E siamo 5 contro 5 Ma Tocca che registro di corsa Adesso vi siamo tutti Allora Ciao carissimi Allora Se mi sentite in questa chat vocale Adesso qualcuno dovrà fare lo spettatore Purtroppo Perché Ce n'è uno di troppo A meno che non arriva un altro Ma purtroppo non c'ho tempo Perché Mi finiscono Lo sceglierò a caso comunque sia Con Ambarbaci 5 post Questo è la chat vocale Che adesso prende malissimo Comunque Invece di mischia mollusca Io direi che si può fare Una zona splat Una zona splat Che è tipo una partita pro Tanto per far allenare anche loro Insomma E allora Facciamo il conteggio Per chi farà lo spettatore Ambarbaci 5 post Tre civette sul comò Che facevano l'amore Con la figlia del dottore Che il dottore si chiama lo Ambarbaci 5 post Ide sarà spettatore Mi dispiace molto Per il resto Tutto casuale Lasciamo tutto casuale Per la scelta Mi dispiace molto Ide Cacchio Se hai appena iniziato a giocare Ma magari la prossima partita Andrà diversa Avanti con tutto pronto Quindi Questi siete tutti voi Siete voi polletti Iscritti a questo canale Non stiamo giocando Con nessuno di casuale Come le altre volte In cui entravate Nelle mie partite Eccetera Quindi sono 4 polletti Contro altri 4 polletti In amicizia Che si vogliono bene Quindi speriamo di spaccare Dopo la prossima partita Facciamo entrare anche Ide Blade dai 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 C'è da cominciare qua A spaccare Con Pistone Squadra Spero di stare in squadra Anche con Stefano Che ieri si è rivelato Un gran cecchino Adesso non ci ho fatto caso Mi sembra di no Mi sembra che ce l'avrò contro Poi Stefano mi Sì mi sale sì O non c'è Stefano Sì eccolo lì Cecchino E lui mi prende sempre di mira Vuole sempre fare male a me Perché è sadico Pabarapapapau Pabarapapapapap Buuuu Bene è tutto nostro Siamo in vantaggio Guarda come ci stanno fermando Io tiro le bombe lì Qualcuno morirà Sì, quello è morto Via, tutto nostro È tutto nostro, signori Via, via No, no, no No, mio caro Fukuno Qui non si passa, caro Fukuno Qui c'è Peo In modalità serial killer Oh, oh, scappa, scappa Electric Peo, scappa No, 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 Fukuno Eh vabbè, però t'ha ammazzato, eh, mio caro Fukuno Ci hai provato Ti vengo a cercare, Fukuno No, scherzo, vengo a cercare proprio te Comunque sia, oh, il gruppo verde Sta riprendendo terreno Non va mica bene, sa? Non va mica bene, così Tiriamo un po' di bombe lì dentro, così Qualcuno morirà tanto Nemico fermato Dove vai, Fukuno? Te l'ho detto che ti venivo a cercare Te l'ho detto? Tiriamo un po' di bombe lì Perché lì di solito è dove appaiono Gli altri giocatori Recarica Strano che non vengano da quest'altro lato, signori Lo sapete che ci sono due lati La mia squadra si sta comportando alla grande Vai, Blade Vai, Pinaget Vai, Nico Insistete sul nemico Che non vedo arrivare nessuno Noi siamo buoni così Lassù c'è qualcuno Non so se l'avete visto Oh, guardate le bombe Guarda quante bombe E abbiamo vinto Guarda quante bombe Pam Distrutti 500 punti a zero Proprio perché il timer Cioè abbiamo fatto scadere il timer Con la nostra zona viola Oh, Blade addirittura B- Già di rank Anche Stefano Quindi state giocando un sacco alle partite pro Vedo Io non ho tanto tempo Adesso cambiamo E facciamo un po' di Torre mobile Per fare le cose strane Facciamo una semplice mischiamo Lusca No, andiamo sulla torre mobile Che non l'abbiamo mai fatta insieme Questa volta lo spettatore Chi sarà? Chi sarà lo spettatore? A me la baci Ciccocò Treci Mette sul commo Che facevano l'amore Con la figlia del dottore Il dottore si è A me la baci Ciccocò Nico Mi dispiace Spettatore Squadre pronte signori Almeno facciamo giocare anche Ide Che in squadra con me Sta appena iniziando il mio caro Ide Io direi che In torre mobile No, va bene così Antio Stefano in squadra Il cecchino Che adesso spacca davvero Dai Pinnaget Muoviamoci a selezionare le armi Non so se stanno cambiando qui Eppipaggiamento Lux ci manca Lux Lux che stai facendo Lux Blade è impazzito Ok Che sta facendo Oh ce l'ha fatta Lux Ce l'ha fatta La battaglia comincia Quindi squadra con Ide Stefano e Lux Quindi abbiamo Blade contro Molto pericoloso avere Blade contro Sappiatelo Molto dangerous No 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 C'è la torre da prendere Il mio joystick Sta di nuovo facendo Le cavolate Via No stra No il mio joystick Sta facendo quello che cazzo gli pare Perché? Maledetto joystick E due giorni che fa così Conquistate quella torre Signori Conquistate la torre La torre del potere Bene L'ho ammazzato Su 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 Dai torre Madonna Buona sto joystick Sta facendo proprio quello che cazzo gli pare Vai vai Primo checkpoint raggiunto Via Tiriamo un po' di bombe là Che là c'è un sacco di gente Via Scappiamo di qua Via Mia questa torre Mi dispiace Morto Mi dispiace Mi dispiace ragazzi No c'è qualcuno lassù Via 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 No Mi ha ammazzato Fokuno Come ti permetti Fokuno Non puoi fare queste cose Eh ragazzo Via Recuperiamo Recuperiamo subito La nostra cara torre È nostra Di diritto Fokuno Ancora tu Porcazzosa Mi stai a far arrabbiare Guarda come si è da fare Signor La torre sta venendo troppo in qua Signori Maledizione Mi ha ammazzato Lorenzo Ma io ho ammazzato lui Stanno spaccando i verdi Improvvisamente Stavamo vincendo Ma abbiamo perso il controllo Per qualche strano motivo Votiamo un po' di bombe Ammazzate Lorenzo Morto Fokuno Ancora lui Arriva E ti ammazza Con un colpo solo Come sempre Ma a noi ci frega Di difendere la torre Più che altro Bene Lorenzo muore Vediamo un po' se Oh Una bomba Proprio qui No Guarda quante bombe Ma chi è che tira Tutte quelle bombe Blade Non va mica bene Signor Blade Così non va proprio bene Bene Blade è morto Oh Chi è arrivato alle mie spalle Sempre fu uno No Si stanno avvicinando Un po' troppo Signori Un po' troppo Bene Ne ho ammazzati due Ho fatto un macello Ne ho ammazzati tre Ne ho ammazzati tre Ce l'ho ammazzati tutti proprio Guarda il mio joystick Del cazzo Fa come cazzo Gli pare ancora Ah ma ammazzato Chi è stato Pin a jet 04 9 secondi 8 resistete Stiamo sopra col punteggio Stiamo sopra Resistete Oh mio dio La possiamo vincere questa In mano nemica no Vinto Finito Mi sa che abbiamo vinto Mi sa Si per pochissimo Combattutissimo Questa lotta Combattutissima Estremamente divertente Siamo Wow Mamma mia Qui ci vuole una mischia mollusca No Chi è andato via Chi è andato via Eriamo Cinque contro cinque Pronto pronto Allora Un ultimo saluto In video Che abbiamo finito La registrazione Spam in diretta Vi saluto Grazie di essere stati con me Abbiamo così giocato Con un sacco di voi È stato super bellissimo E spero di farne di più Mi raccomando Lascio il link In descrizione Del canale telegram Dedicato alle partite Di splatoon Ma nintendo switch In generale Potrebbero scapparci Anche battaglie su arms O robe simili Non lo so Se vi è piaciuto Questo video Beh mostrate Un bel po' di amore Al pulsante qui sotto Forma di pollice in su Sempre ricordando Che questo bellissimo uomo Bellissimo uomo Qui è electric O come dice mio zio O come dice mio padre O come dice mio fratello O come dice mio